ciao a tutti ragazzi sono clash matti e come volete oggi sono qui nel mio balcone e ho fatto delle foto a lunga esposizione ci sono delle app per fare le foto a lunga esposizione e vi volevo dire vi volevo dire che ho fatto queste foto e voglio farle vedere in questo video youtube dovete assolutamente scrivermi sui commenti se vi sembrano queste foto più foto fatte a lunga esposizione o vi sembrano più opere d'arte quadri perché veramente sono sembrano quadri fatti da pittori è veramente è bene però assolutissimamente un miliardo di visualizzazioni un miliardo proprio no però un pochetto sì e 15 mila mi piace dai possono essere sufficienti dai e anche scrive a scriversi dai forse ce la facciamo a diventare un bel canale dai ok iniziamo a vedere le foto pop 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 ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti